Dal Vangelo secondo Lucca. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli una parabola. Osservate la pianta di fico e tutti gli alberi. Quando già germogliano, capite voi stessi, guardandoli, che ormai l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il Regno di Dio è vicino. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Parola del Signore. Gesù era un attento osservatore della natura. Spesso ha parlato di ciò che vedeva, dei gigli dei campi, degli uccellini del cielo, delle messi, del grano che germoglia, del granellino di senape. Sono tanti i momenti in cui Gesù contempla la natura e anche oggi ci offre una parabola. A noi che stiamo entrando nell'inverno ci dice, ma a un certo punto vedrete che le piante, adesso le vediamo che buttano giù le foglie, tutto sembra morire, ma a un certo punto, lui parla del fico, ma poi di tutti gli alberi, vedremo che le piante cambieranno e cominceranno a far fiorire dei germogli. Ecco, imparate a riconoscere che quando vedrete questo voi direte è vicina l'estate, è vicina la bella stagione. Ecco, noi sappiamo riconoscere questi segni. Una volta Gesù ha detto, poi riconoscete i segni della natura e magari sapete dire anche, ecco, se soffia lo scirocco allora pioverà, se invece viene il vento dal nord farà tempesta. Ecco, tutte queste cose siete capaci di riconoscerle, ma siete capaci di riconoscere la qualità del tempo. E allora Gesù applica questa capacità di riconoscere il tempo a questa realtà. Quando vedrete accadere queste cose sappiate che il regno di Dio è vicino. Quali sono queste cose? In realtà Gesù ha parlato ai suoi discepoli mostrando come tante realtà che sembrano eterne invece passano. Ha parlato della distruzione della città di Gerusalemme. Ha parlato di pestilenze, pensiamo a quello che stiamo vivendo in questo tempo con la malattia, con la pandemia. Ha parlato di terremoti, di guerre. Addirittura ha annunciato che anche il sole e la luna non avranno più il loro posto così sicuro come noi siamo invece abituati a dare. E cioè il Signore vuole che sappiamo riconoscere che tutto ciò che sembra sicuro, che sembra eterno, invece è destinato a finire. Dirà il cielo e la terra passeranno. Anche la prima lettura avete sentito un po' misteriosa del libro di Daniele dove nel sogno Daniele vede queste quattro bestie. Vede un leone, un orso, un leopardo e poi sempre più misteriosi. Poi l'ultima bestia che non descrive, che è enorme, da cui vengono fuori dieci corna, di cui il terzo è il più tremendo. E fondamentalmente questa visione descrive succedersi degli imperi, i babilonesi, i medi, i persiani. A fine l'ultima grande bestia è Alessandro Magno che ha distrutto tutto. Da lui sono poi usciti i suoi successori, ecco le corna che indicano il potere. Uno di questi è Antioquo Epifane, tremendo perché aveva appunto portato via gli arredi dal Tempio e aveva messo un idolo nel Tempio. E quindi tutti questi poteri sembrano eterni, eppure c'è un trono nel cielo, che è il trono di Dio, del vegliardo. E viene finalmente, dopo tante bestie, perché questo è il volto del mondo, è un mondo bestiale, dove vive chi è più forte, chi si impone. Finalmente viene un figlio d'uomo che porta il nuovo regno. Ecco Gesù dice tutti i regni bestiali, tutta la violenza che c'è, e Gesù è realista, sa, sa che a Gerusalemme questo potere cercherà di ucciderlo. Però questi passeranno, e la forza sarà il regno che Gesù porterà. Una generazione lo vedrà, qual è il fatto che segna il cambio della storia, la sua morte, la sua ressurrezione, che ci mostra qual è la direzione verso cui andiamo, qual è la realtà che non passa, qual è la vita che fiorisce nell'eternità. È quello che si fa secondo la sua parola. Cielo e terra passeranno, le mie parole non passeranno. Il germoglio è proprio l'evento della ressurrezione che mostra come, nella nostra storia, che non è ancora arrivata alla fine, ma ormai c'è una certezza. C'è un fatto che ha cambiato tutto, che è la risurrezione di Gesù, che ci attesta che lui non passa. Oggi noi celebriamo l'eucaristia, non facciamo altro che dire, Signore tu sei morto ed hai risorto. E noi ti incontriamo questa mattina come il vivente, come colui che apre il nostro cuore alla speranza dentro una realtà travagliata, dove c'è ancora il peccato, anche il nostro, ma siamo qui per recuperare la speranza, essere certi che ciò che facciamo obbedendo a te non passerà. Per questo noi con gioia celebriamo l'eucaristia, con gioia adoriamo l'eucaristia, con gioia ci cibiamo di quel pane che ci assicura. Cielo e terra passeranno, ma noi uniti a te, oh Signore, siamo destinati a finalmente vederti un giorno e rimanere sempre con te.